Benvenuti a Bibbia, la terra dei libri. Io, Mauro Fornaro, sono qui per parlare degli abitanti di questa fantastica terra, i libri e di coloro che li hanno creati. Oggi vi parlerò di un romanzo di uno scrittore che non ha bisogno di molte presentazioni, anzi, Ernest Miller Hemingway, più comunemente conosciuto come Ernest Hemingway. Ma, attenzione, non vi parlerò dei suoi libri più famosi, piuttosto sono a consigliarvi un libro che non è dei più conosciuti, ma attualissimo. Avere e non avere, un romanzo pubblicato nel 1937. Il libro è composto da tre racconti scritti in periodi differenti, la cui unità consiste nella presenza dello stesso personaggio, Harry Morgan, e dall'ambiente distante pochi chilometri dall'isola di Cuba. La realtà sociale che viene descritta è quella delle ingiustizie e delle sofferenze che devono subire coloro che appunto non hanno. Ci sono quelli che hanno e quelli che non hanno niente. E nel mezzo c'è appunto Harry Morgan, contrabandiere fra l'isola di Key West e l'isola di Cuba. Il battello di Harry è preparato a tutto, come chi ne è al timone, sia che si tratti di contrabbando di liquori o di profughi cinesi clandestini. Sia per una battuta di pesca, a spese di qualche riccone in vacanza, Harry ovviamente non rifiuta nessun tipo di lavoro. Ha una moglie e tre bambine da mantenere. E se il gioco si fa duro, è molto pericoloso, è pronto anche a uccidere, a farsi sparare, a perdere un braccio o addirittura la vita. Harry Morgan è il simbolo dei reietti, di coloro che devono arrangiarsi nella vita, che la rischiano tutti i giorni, sempre a contatto con individui poco raccomandabili e sotto il tiro della legge. Ma, allo stesso tempo, è un uomo che sa usare la testa, che conosce la differenza fra quello che si può e quello che non si può fare, fra il bene e il male. E sa prendersi le responsabilità delle proprie decisioni. A gravitare intorno alla sua figura troviamo i poveri ubriaconi dell'isola, le loro mogli brutte incattivite dalla fame e dalle esaspirazioni, i ricchi annoiati turisti americani, gli scrittori dipendenti ossessionati dalle critiche, donne bellissime e disperate e, come sempre, fiumi di alcol, bicchieri che vengono riempiti non appena svuotati dalle gole arse dalla vita. Il mare di Cuba, la corrente del golfo, cangiante di colori dal verde trasparente al blu cobalto, popolato di pesci giganti e spazzatura e cadavere. La luce del tramonto che rende la superficie viola e l'animo di chi guarda più sereno, nonostante tutto. C'è veramente tanto di Ernest, del suo mondo e delle persone che amava e odiava in questo romanzo ed è un piacere salire sulla barca di Henry e farsi abbracciare dai temi tanto cari a Hemingway. E ora una piccola pausa dedicata ai nostri partner. Ben tornati a Biblia. La terra dei libri. Vi ricordo di seguire Brio Radio nei social e magari di iscrivervi al canale YouTube. Avete anche la possibilità di un sostegno libero e volontario con una donazione PayPal. Prima di leggervi qualche riga del libro di oggi vi do un consiglio turistico, ovviamente a tema culturale e mingueiano. Se vi capita cari ascoltatori di Brio Radio di passare in Veneto, più precisamente dalle parti di Bassano del Grappa, andate a visitare il Museo Hemingway e della Grande Guerra. Lo trovate nei social, sono molto molto attivi ed è un museo molto interessante perché oltre ovviamente a testimoniare la presenza di Hemingway in Veneto ma in Italia, hanno anche attività collaterali o meglio promuovono anche attività collaterali sempre ovviamente a sostegno della cultura. Come ben sapete Hemingway per vari motivi è molto legato all'Italia e in particolare al nord-est. Ma torniamo a noi e ora vi leggerò le prime righe del libro di cui stiamo parlando oggi, Avere e non avere. Un libro che come abbiamo detto è molto attuale perché appunto parla delle persone che hanno e delle persone che non hanno. Un libro attualissimo perché parla di migrazione, di persone che vogliono fuggire, ma anche di persone che non sanno come investire il loro tempo perché magari ricche, perché magari annoiate e persone invece che cercano un tempo migliore non tanto dal punto di vista prettamente meteorologico ma di vita. Sapete com'è la mattina prestola all'Havana? con i vagabondi che dormono ancora contro i muri dei palazzi. Prima che arrivino i furgoni col ghiaccio per i bar. Beh, noi attraversammo tutta la piazza dal molo al bar Pearl of San Francisco per farci una tazza di caffè. A proposito di Biblia, la terra dei libri, se volete conoscere meglio i miei libri ma anche tutta la mia attività culturale, basta cercare Mauro Fornaro nei social. Un caro saluto e ora... Musica! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti